Consiglio nazionale forense, firma del protocollo dell'accordo per partecipare a INPA, 247.000, Avvocato Masi, Presidente Facente Funzioni al momento, per me è un grande onore, un grande piacere, aggiungiamo 247.000 professionisti al nostro portale, dovremo arrivare a 5-6 milioni nell'arco dell'anno e naturalmente metteremo poi il portale a disposizione di tutte le amministrazioni, di tutti i titolari dei progetti per selezionare professionisti che con la loro esperienza e con le loro capacità possono consentire al PNRR di decollare. Io ho chiesto a tutti i professionisti, a tutti i tecnici, ordinisti e non ordinisti, di partecipare a questa grande e bellissima avventura che poi rimarrà anche per la concorsistica naturale e non solo quella del PNRR e quindi da questo punto di vista sono particolarmente contento di oggi. Noi continuiamo con questi protocolli d'intesa e cominceremo le selezioni, da quando? Tra qualche giorno. Tra qualche giorno cominceremo a sperimentare il portale. I mille. I mille, sui primi mille, tra l'altro ci sono anche figure legate a voi, da consegnare alle regioni, che le regioni utilizzeranno mille professionisti per la semplificazione delle procedure, degli appalti e dei progetti.